quanto vuoi tu stai riprendendo dove lo tiri? fai a capire dove lo tira questi qua sotto? arriva a te ladro ora 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 questo Maria che non mi piace ma quelle non ce voglia qui? sono questi sono te più svegli ora tocca a me ah l'ultimo ancora ma come si vedono i denti di quello e ora parte la vegetazione ora perdita ecco qui perra e coccodrilli allora che tumba oh non apparece su un occhio voglio provare a tirarlo verso quel pennuto laggiù voglio vedere se sta andata proviamo quello laggiù questa che ha bocca aperta semi aperta no però non l'ha preso perché è imbalzato di qua e si è passato quello sopra esatto vedevo un po' quella parte mangia oh oh provo a tirarlo ma non c'è neanche un colto vicino provo a tirarlo là a lui al pennuto dici che se lo prendo provo al pennuto e se se ne è preso basta questo grosso no lo puoi dimenticare cos'è qui qua questo qui questo qui questo qui questa è stata delicata vediamo questo qua grosso mettiti in un posto comodo per riprenderlo è qua delicato tutto di casa qua in mezzo che c'è stato due no questo è un po' meno poi tanto vanno a vuoto se io tiro qua e quello mangia da là perché vedi magari lo schizzo dell'acqua questo è un po' ora devo provare con la capoca aperta devi lanciare un po' di filo è ben certo tenuto basta tu fai apposta tenuto tu basta ecco provaci 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 però non so se ce li ho finavate eh sì provaci ancora no ma non c'ho la mira che fa cagare guarda questa davanti alla bocca questo è proprio preciso davanti alla bocca ma quello è un legno sì sì ma un'altra questa un'altra questa l'è meritata proprio nasce un pochettino nella bocca ecco tira quello la vediamo un po' se ce l'è no quello la però eh quello lì sì sì eh è troppo lontano non lo vedi è troppo lontano è questo ancora è questo ancora è questo che comodo è questo è questo è quello più piccolo mamma sono ricettivi eh questo pezzettino lo voglio fare in due l'ultimo sì è questo qua faccio in due no faccio in due una e una a questo qui ah quanto è stato di ricattiglia è questo invece più vorace aspetta che facciamo questo qua questo è stato delicato dai allora com'è andata fantastico la gatta al sapor di ghiutella di fiuso